siamo bot ciao mili eccolo qua perfetto abbiamo i nostri pesetti no cazzozza ma non l'ho colpito oh stavolta l'ho preso olè olè e due e ci vogliamo di già assolutamente si tre pesetti spada solenne prendo perchè si questo è un bel disaster è un bel disaster non l'ho preso oh cazzozza metto 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 madonna distrutto ultimo pesetto e si ciao deck oddio oddio è molto agguerrito bodyguard vieni 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 sì lì stanno facendo cose sono cose interessanti eh no è stunnato Facciamo cose interessanti Qua su pure Oddio Ho svegliato Olè Era per flashare addosso Con lo stun ma non serviva Era già Era già abbastanza vicino Ho sentito pure questi venti Allora Sì Cazzozza Peccato Peccato I leak sul secondo anniversario sono veri Sì ci sarà il secondo anniversario Non so quali siano Questi leak di cui parli Il rantolo di morte È una Una cosa aggiuntiva Che hanno messo Che hanno messo nell'ultimo aggiornamento Che tu fai Quando muori Praticamente Muori Solo che Fai Perverso Lo fa anche il Pokémon 100% vero Madonna Ho distrutto Un po' Poi si è girato Forse Poi si è girato Ecco là Carico per Diablo Non hai idea di quanto Io l'ho detto Quello che vogliamo fare E che faremo Per Diablo Vedo l'ora Non pensavo Però Io non ci avevo mai giocato a Diablo Però Carino Molto carino Vieni qua Ma dove scappi Ma no Dai Qua con noi Noi Io E la mia spada Guardi tu Guardi tu Guardi tu Vieni qua Vieni qua No Ho pensato Questo è qua Invece non è venuto Questo stro Porco diavolo Non mi ha preso la forma Sono le 11 e 08 Ah grazie 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 Sì Effettivamente Pensavo Ciao Graffè Eh Mimmo Io non ti ho accettato Perché non sei sub Non posso accettarti Purtroppo Se tu facessi la sub Allora Saresti Benvenuto Ma Essendo sub Non è giusto Ne confronti degli altri No Ma tu che ne sai Di cosa è giusto Ne confronti degli altri Oh No Questo è un disastro Lol Ha fatto lato attacco Sul baltoi Ma ha ucciso Greenland Mio Mio Tutto mio Tutto mio Ah sì Papo ma ti stanno entrando In base in bot Non è vero Ok forse sì Scuro Speriamo che Gridant Sia andato a bot Guarda qua Guarda qua Mauro Eh troppo bello Ah non si dice così Eh Sei troppo bello Ti sbombini Ah no 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 Nel senso Non Non era quello Lo scopo Rubando tutta la giungla Let's go Ah sì A me piace così Facciamo il 28 Allora Qui stanno facendo cose simpatiche Quindi Ci mettiamo Ti sbombini Scusate Scusate È troppo bello È un problema È un problema È un problema Perché ho ancora 10 secondi Mentre lui Sta rispondendo adesso E Loro lo fanno Scusate Certo Eccolo là Eccolo là Eccolo là Guardalo 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 Via Non so se siamo sopra O sotto Non ho idea Testa a testa Eh Però Bisogna prima Ammazzure Blissi Che se no Un disastro Olè Ma no Fortissimo Fortissimo Lo spombini Metto Arrivederci Sì 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 Vai È fatta È fatta È fatta Ci siamo Eh Cinque Quattro Tre Via Due Uno È andata Che Pokémon ho Io ce l'ho tutti Kulka In questo momento Sto giocando Edgeslash Come ben vedi Allora Va fare il compropasso Oggi uscirà il compropasso Ehm Saglani Ma com'erano gli ultimi Chi è l'ultimo che è uscito Gudra Eh sì No Non era Gudra Però Uno degli ultimi No Chandler Cazzo Umbreon Ok Quello prima Ehm Eccolo Eccolo Porco Eccolo Ecco Perfetto Dovevo mettere il titolo ragazzi 113 mila danni Con spadino Diciamo importanti Diciamo molto importanti Questi 113 mila danni Con spadino 13 kill Oh my god Partita carriata Super Fantastico I bet Come on quinn It's popping in here Tonti 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 Grazie a tutti.